se si è preso un dispositivo ios come un iphone un ipad da qualcun altro quindi lo si è acquistato di seconda mano oppure lo si è trovato da qualche parte può capitare che il dispositivo sia bloccato e quindi sia collegato ancora al vecchio account e quindi non si possa attivare in questo caso bisogna prima sbloccare il dispositivo e quindi bisogna eliminare il blocco di attivazione le strade da percorrere per eliminare il blocco di attivazione sono essenzialmente due la prima è quella che consiste nel contattare il vecchio proprietario e fare in modo che venga quindi rimosso dal proprio account quindi bisogna contattare il vecchio proprietario e quindi poi andare su iCloud online e qui in iCloud poi bisognerà spostarsi nella sezione dove è possibile visualizzare tutti i dispositivi che sono collegati all'account e da qui si potrà rimuovere il dispositivo dall'account cliccando appunto sulla voce rimuovi dall'account per far questo bisognerà contattare il vecchio proprietario in questo modo quando il dispositivo verrà rimosso dall'account potrà essere configurato con un nuovo account Apple quindi con un nuovo ID Apple qualora non fosse possibile contattare il vecchio proprietario allora bisognerà ricorrere ad un'altra soluzione e provare un software che consente di bypassare il blocco di attivazione come può essere per esempio Enial Lock Enial Lock è un programma che mette a disposizione tutta una serie di funzionalità tra cui anche la rimozione del blocco di attivazione di iCloud e quindi utilizzando questo programma sarà possibile poi rimuovere il blocco di attivazione e così prendere il possesso del dispositivo e poterlo configurare con un nuovo account Enial Lock è disponibile sia per Mac che per Windows ed è un programma che offre tutta una serie di funzionalità per sbloccare i dispositivi di Apple quindi non si limita solo a bypassare il blocco di attivazione ma anche può per esempio sbloccare un iPhone senza codice o sbloccare l'ID Apple e altre funzioni ancora ognuna di queste funzioni può essere acquistata singolarmente oppure si può acquistare la versione completa di Enial Lock con tutte le funzionalità bisogna fare attenzione però che il bypass del blocco di attivazione non è possibile su tutti i dispositivi Apple ma è supportato solo su alcuni modelli nello specifico può essere fatto solo su dispositivi iOS con iOS che va dalla versione 12 alla versione 16.4 e quindi non su tutti i dispositivi può essere poi usato su tutti gli iPhone che vanno dal 5S all'iPhone X su tutti gli iPad che vanno dall'iPad 4 all'iPad 7 e su tutti gli iPad Touch che vanno dal 6 per procedere si collega il dispositivo iOS nel mio caso un iPhone al computer con il cavo USB e si clicca appunto su bypassa blocco di attivazione quindi Enial Lock cercherà di rilevare il dispositivo e se collegato correttamente ne mostrerà appunto le informazioni come la versione di iOS, la versione del dispositivo e così uno può controllare se effettivamente fa parte dei dispositivi compatibili o meno l'operazione per bypassare il blocco di attivazione comporta il jailbreak del dispositivo quindi prima di procedere è bene essere consapevoli di cosa comporta fare il jailbreak quindi quali sono le limitazioni che poi si avranno una volta che il dispositivo è stato jailbreakato potrebbe non essere possibile utilizzare le schede SIM per fare chiamate e quindi navigare con i lati cellulari oppure usare FaceTime, iMessage oppure creare un nuovo account di iCloud o anche utilizzare iTunes l'ideale quindi sarebbe quello di eliminare il blocco di attivazione contattando il vecchio proprietario ma se proprio questo non è possibile attraverso questa procedura nonostante le limitazioni che comporta sarà possibile comunque utilizzare il dispositivo si procede quindi cliccando su inizia il jailbreak e quindi poi si seguiranno sullo schermo i passi mostrati per effettuare appunto tutta l'operazione per bypassare il blocco di attivazioni per procedere bisognerà innanzitutto mettere il proprio dispositivo nella modalità DFU ora AnyAlloc mostra una guida su come mettere il dispositivo nella modalità DFU a seconda del dispositivo che si possiede quindi bisognerà selezionare prima il tipo di dispositivo quindi se è un iPhone, un iPad o un iPod Touch e poi nel caso dell'iPhone selezionare anche quale modello di iPhone sia in possesso in questo modo si potrà visualizzare appunto le operazioni da effettuare per poter mettere il dispositivo nella modalità DFU seguendo le istruzioni quindi a monitor si procederà con il mettere il dispositivo nella modalità DFU e quando questo avviene la procedura proseguirà per effettuare il jailbreak una volta avviata la procedura per il jailbreak bisognerà avere un po' di pazienza e non scollegare il telefono dal computer quindi seguendo appunto quello che viene mostrato al monitor possiamo controllare lo stato di avanzamento del jailbreak potrebbe volerci anche qualche minuto bisognerà avere solo un po' di pazienza terminato il jailbreak poi si potrà passare allo sblocco appunto del blocco di attivazione e quindi si cliccherà su bypass ora e anche in questo caso poi bisognerà attendere che venga appunto bypassato il blocco di attivazione e quindi si potrà diciamo prendere di nuovo possesso del dispositivo e quindi poi effettuare l'accesso per utilizzarlo senza appunto avere l'ostacolo del blocco di attivazione Elial Lock è un programma commerciale e quindi può essere acquistato andando direttamente sul sito del produttore e dal sito del produttore si può scegliere di acquistare il programma scegliendo uno dei vari piani di abbonamento che sono a disposizione quindi uno può scegliere il piano di abbonamento che uno desidera e Elial Lock essendo dotato di più funzionalità consente di acquistare sia la funzionalità di cui si ha bisogno quindi per esempio quella della rimozione del blocco di attivazione oppure si può acquistare anche il pacchetto completo pacchetto completo che include tutte le caratteristiche di Elial Lock ma come ho detto all'inizio di questo video è importante verificare prima che il proprio dispositivo sia compatibile con questa funzionalità perché purtroppo il blocco di attivazione di Elial Lock non può essere eseguito su tutti i dispositivi ma solo su alcuni dispositivi quindi bisognerà controllare effettivamente quali sono i dispositivi sui quali si può bypassare il blocco di attivazione e qualora il proprio dispositivo fa parte di questi dispositivi allora si procedere all'acquisto di Elial Lock